le gru artiglio sono così complicate non riesco proprio a far uscire questo cucciolo me scegli me no me oh sì questo massaggio al cuoio capelluto è fantastico ehi torna indietro ne voglio ancora cosa dovrei fare con l'argilla ho fatto un cavallo e questa la chiami arte giusto dovrei mescolare due colori non ne hai abbastanza l'atmosfera al tavolo da poker è così tesa le fish giocano a monopoly raddoppio niente all in tocca a me cinque passi avanti voglio tutto sono il re del mondo prossima mossa sono ricco ma tutti i giochi prima o poi finiscono che succede questa scatola di bambola è così difficile da aprire stupido pacchetto aiuto salvatemi ora metto le batterie wow sono tutta carica chi vuole giocare non vedo l'ora di iniziare il gioco sono così emozionato cominciamo devo battere questo livello forza più veloce stupido gioco ehi vacci piano che maleducato buon compleanno tesoro chior sacchietto adorabile ma gli manca un occhio so cosa fare cucirò un bottone al suo posto ora sei ancora più bello di prima bello è carino da parte tua non c'è più acqua devo prenderne dell'altra e ora carichiamo sono pronto a combattere attacco e di questo centro questo slime è così bello e appiccicoso oh sì sono libero giocarci è così divertente oh cavolo ora è rovinato la spazzatura cos'è successo la pistola nerf è carica fuoco centro e se fosse una mitraglietta no questo è troppo tutti amano il buon vecchio badminton sto volando sto volando oh è incredibile volare avanti e indietro tutto il giorno sono bloccato il nero fa una mossa e vince preparati a morire pedone è ora di andarsene da qui mai ostacolare una regina barbie e ken si sono innamorati a prima vista ma non tutto sembra così romantico nel mondo dei giocattoli ken baciami che imbarazzo giocare con una palla rimbalzante non invecchia mai questo ragazzo può fare tutti i salti mortali che vuoi librarsi in alto sopra la terra è così bello vola aquilone oh si è bloccato su un albero qualcuno mi aiuti tiratemi giù google ha tutto ciò che ti serve ma il mio google non ha una cosa internet sto elaborando la sua ricerca un dinosauro grande è il gioco dei dinosauri lo adoro corri piccolo ah mostro aiuto ma so come battere il dinosauro un cactus appuntito oh no il mio dinosauro ha colpito un cactus fare una parola usando solo cubi sembra facile provo questo no questo è meglio e così ma come posso fare dai siamo stanchi dove è andato? è colpa del tavolo metto un cubo sotto la gamba così sta fermo ehi davvero? sto bene che parola vedi? commenta qui sotto ah 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 perdente non raggiungerai il bersaglio anche se è proprio davanti al tuo naso la chiave delle freccette è alla pratica oh no non far l'ha colpito i boomerang sono divertenti per chi non ama camminare appena dici ciao è già tornato ciao buongiorno mondo senti il dolore ai perché mi stai torturando? fa male ai il lego mi sta uccidendo ridammelo sono stata attaccata stai lontano dal mio piede ai non volevo vuoi giocare a calcio? sapevo che sarebbe andata male ed ecco un pallone da basket oh non essere triste può succedere a tutti Ken e Barbie siete una grande coppia se vi scambiassi Ken stai benissimo in rosa Barbie questa giacca ti sta benissimo siete così carini sì mamma arrivo oh se n'è andata posso respirare penso che questo vestito mi faccia sembrare grasso mi piace Ken aggiusta la spallina sì così va meglio oh arriva respira gli airpods sono così belli oh la mia cuffia salvami eccoti qui ti ho presa il tuo posto è nelle mie orecchie non sulle scale una stella qui un cerchio qui una croce non funziona è troppo difficile fammi entrare devo entrare oh ora sono bloccata che giornata stressante devo calmarmi adoro il mio morbido antistress ehi vacci piano questo è un forte massaggio ecco ora mi sento meglio grazie slime cosa fai quando ti annoi? gioco con un fidget spinner è così divertente più veloce? oh no è troppo veloce è così rilassante basta finalmente no non di nuovo mi si è rotta la matita ne prenderò una nuova ci sono un sacco di matite nel cassetto si fa festa scusa c'è una chiamata urgente per te devi andare non opporre resistenza questa nuova matita è bella puntita quella rota può rimanere qui dentro resta qui signore ehi qual è il suo problema? ciao sono mister duck ci sei così vicino? è rosa ha un muso e dice è un maiale? sì hai indovinato Bradley sei il prossimo? sono un lanterna verde? no hai un mantello bat boy no è rosso e sei allergico alla kriptonite sei serio? non ci credo hai una S sul petto l'uomo strano epic fail ti è piaciuto il nostro video? scrivi qui sotto quale giocattolo ti è piaciuto di più e metti un like al video iscriviti al canale e clicca sulla campanella per non perdere nessun nuovo esilarante video di Troom 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 Grazie a tutti.